Dallo scorso mese di maggio a Vasto un presunto lupo si aggira sulle spiagge del litorale aggredendo turisti residenti nelle ore notturne. Ieri mattina l'animale è stato nuovamente avvistato lungo la pista ciclabile di Vasto Marina e seguito dai volontari della protezione civile che erano pronti alla sua cattura, salvo poi essere fermati dall'ente parco. Una situazione paradossale su cui il primo cittadino di Vasto, Francesco Menna, ha espresso tutta la sua contrarietà. È da maggio che questo lupoide sta aggredendo cittadini sulla spiaggia di Vasto tra mezzanotte e le 4 del mattino. Siamo a circa 12 aggressioni. La competenza è di Stato e Regione. Purtroppo noi sindaci non possiamo fare niente per legge, non ci possiamo avvalere di niente e di nessuno. Stiamo aspettando che Stato e Regione catturino il lupo. Ieri è accaduto che la protezione civile, chiamata dalle forze dell'ordine, si trovava con uomini, mezzi, reti, pronta alla cattura. Siamo stati diffidati perché stavamo per commettere un reato e potevamo essere sanzionati. Io credo che si sta realizzando il paradosso della normativa italiana, la barzelletta della normativa e della burocrazia italiana. Per cui valuterò anche insieme ai legali di fare un'azione risarcitoria, di denunciare quando sta accadendo. È inconcepibile che un sindaco non possa con i propri uomini di protezione civile, con i cacciatori, avvalendosi insomma di persone di buona volontà, catturare un animale che sta mettendo e ha seminato il panico in questa stagione estiva. Da maggio Stato e Regione non danno risposta. Come si vede dal video amatoriale dell'ultimo avvistamento, il canide è chiaramente in difficoltà zoppica ed è denutrito. Dunque è necessario un immediato intervento di recupero di quest'ultimo per salvaguardare il suo stato di salute ma soprattutto per far tornare la serenità dei fruitori della costa vastese.